Grazie Presidente, in questo caso ci riferiamo ai punti verde qualità, un altro tema che abbiamo trattato in Commissione Sport, ma anche in Commissione Urbanistica, ma anche in Commissione Ambiente, eccetera, eccetera. In questo emendamento ci sono le risultanze di quello che è emerso in occasione dell'ultima Commissione, ovvero chiediamo di procedere alla regolarizzazione di tutte le opere di interesse pubblico nell'ambito del programma punti verde qualità entro la fine del prossimo anno, in modo tale poi da poter passare di competenza alle strutture maggiormente idonee per la gestione amministrativa di queste stesse strutture. So che diversi punti verde qualità vorrebbero essere assegnati al Dipartimento Sport, questo non è ancora avvenuto perché a mio avviso giustamente da parte dell'assessore Frongia c'è stata la richiesta prima di procedere a sistemare tutto ciò che riguarda le strutture che poi giustamente il Dipartimento dovrà prendere in carico. Quindi con questo emendamento riusciremo a trovare una soluzione ad un problema che necessita da troppo tempo un intervento deciso da parte dell'amministrazione. Grazie.